Oggi la manifestazione dei lavoratori è finalizzata a sensibilizzare la nuova gestione provinciale su un tema molto importante che è quello dei rifiuti. Tema che è cuore a tutti, non solo ai lavoratori ma a tutti i cittadini campani viste le emergenze che ci sono state. Noi gli diamo semplicemente l'applicazione della legge regionale che come è stato al solito vengono fatte, emanate, combattiamo per riaverle e poi non vengono mai implementate. Gestire bene è possibile, abbassare i costi è possibile e se la politica si impegna a fare una gestione ordinaria, seria, consapevole dando un servizio al cittadino e diminuendo i costi. Chiediamo semplicemente che vengano mantenute le aspettative e le promesse fatte e soprattutto che venga rispettata la legge. Chiediamo un contributo non solo alla nuova dirigenza provinciale ma anche un senso di responsabilità a tutti i sindaci che ne sono l'espressione dell'impegno sulla costituzione dei IATO e sulla successiva riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti per un abbassamento dei costi e un miglioramento dei servizi. La FIEDEL per l'ecoambiente, noi siamo qua per rivendicare il nostro lavoro, nel senso che oggi non sappiamo ancora se questa dirigenza rimarrà oppure Canfora, il nuovo presidente della provincia, vorrà insediare una nuova dirigenza. Quello che ci preoccupa è la riorganizzazione del lavoro, vogliamo risposte chiare in merito a questa situazione e abbiamo ricevuto una convocazione per lunedì alle 4 qua in provincia dove aspettiamo risposte concrete.